Musica Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Zona Franca. Questa sera ci troviamo a Grottaglie con degli amici. Sono accanto a me Domenico Carlucci, Domenico D'Eredità e la bellissima Federica Quaranta. Grazie, ciao, buonasera a tutti. Ciao. Allora, cominciamo da Domenico. Domenico, tu sei praticamente il chitarrista della Blues Indelebile Band. Esatto. Da quanto tempo insegni musica qui a Grottaglie? La passione dell'insegnamento risale da tanti anni, tempi storici no. Però l'associazione è stata aperta nel 2010 e continua ad andare avanti con tanto successo. Faccio tante iniziative, anche progetti nelle scuole. Quindi è un buon modo per cercare di distrarre i ragazzi da strade diverse da un punto di vista culturale, in senso positivo e quindi questa è un'associazione che propone oltre alla musica, propone anche incontri culturali di vario tipo, insomma, non soltanto a livello musicale. La musica è ovviamente la forza trenante, il tema principale, diciamo, dell'associazione, però è aperta anche ad altri temi, sempre di tipo culturale, no? Le letture, altri tipi di saggi, eccetera, eccetera. Insomma, incontro anche con l'autore, di libri, insomma, cose di vario tipo, sempre da un punto di vista culturale, ovviamente. Cosa avete all'attivo? Come CD, magari, musicali? Voi che cosa trattate, magari? Qual è il vostro repertorio? Sono tutte cover o ci sono anche degli inediti? Ok. Allora, noi, intanto, come dice il nome stesso, suoniamo blues. Suoniamo, io dico suoniamo, ma in realtà io canto e i ragazzi appunto suonano tutti gli strumenti, la chitarra domenico, il piano domenico d'eredità e poi abbiamo anche altri due elementi che purtroppo stasera a causa lavoro non... Nominiamoli comunque. Certo. E abbiamo Lino Barbaro al basso e Michele Marzulli alla batteria. E appunto noi suoniamo blues, questo è, grazie domenico, questo è il nostro primo, ultimo CD, che appunto si intitola Blues Indelebile Band Live in Studio. E abbiamo praticamente suonato appunto queste cover, ma soprattutto le abbiamo riarrangiate, ok? In chiave totalmente nostra, perché volevamo lasciare un'impronta appunto nostra, del tutto personale, però in cantiere ci sono brani nostri, degli inediti che insomma speriamo che escano il prima possibile con il secondo CD. E noi ve lo auguriamo, voi fate anche delle serate in giro per tutta la provincia, quindi questo sarà un periodo abbastanza fertile essendo in estate. Sì, 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 assolutamente. Benissimo, abbiamo sempre più appuntamenti live, è stata, è stata, è un'estate come l'anno scorso, è un'estate bellissima, piena di live, abbiamo in cantiere tanto lavoro, tanti progetti, e a breve comunicheremo una data importante con un ospite, importante. L'anno scorso, però non diciamone il segreto, l'anno scorso abbiamo anche fatto altre serate con ospiti, il 4 agosto con Vincenzo Pastano, abbiamo anche i quadri, no? Antonello Durso! Durso, il mitico, sì, 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 quindi chitarrista di Vasco, chitarrista poi con Antonello di Carboni, Branduardi, Battiato, e abbiamo in cantiere altro, che però non possiamo svelare. Allora, ascoltami un attimo, passiamo a te Domenico. Per quanto riguarda la città di Grottaglie, voi, non so, avreste qualche idea per cercare di movimentare un po' questo paese? Beh, sicuramente bisogna attivarsi con eventi culturali, anche avallati, chiaramente anche da musica, non solo. È importante che ci sia un po' di movimento, un po' in tutte le arti. Grottaglie, a quanto ho visto, io sono di Taranto, però ormai siamo naturalizzati, qui suonando da un anno insieme, vedo che c'è molta arte, c'è molta passione anche per il turista, ma anche per chi viene da fuori, quindi è un terreno molto fertile, che è già a buon punto, a quanto vedo, una cittadina, possiamo chiamarla, più che un paese. Sì, peraltro rispetto magari anche ad altri paesi c'è, qui sicuramente è più radicata, no? La cultura anche musicale, però si può fare sempre di più, si può fare sempre di più, questo lo dico, ma anche perché con molto orgoglio dico e ripeto che qui abbiamo un sacco di potenzialità, cioè abbiamo tantissimi ragazzi che suonano, non solo che suonano, come diceva Domenico, anche arte di tutti i tipi, forse è il Sud, no? Che dà tutto questo, quindi benvengano, benvenga. Domenico, dobbiamo valorizzare quindi i nostri? I nostri ragazzi, no, volevo dire grottaglie, cioè mi hai spiazzato dicendo i nostri, grottaglie come il Sud ha delle potenzialità allucinanti, sotto tutti i punti di vista, dobbiamo soltanto sfruttare meglio questi punti a nostro vantaggio, evitare la fuga dei ragazzi proprio che non hanno poi nessuno stimolo poi a arrestare, quindi io invito proprio loro a non demordere, cioè a restare qui e a prendere ogni granello di sabbia, a metterlo insieme e così si fanno delle grandi cose, cioè io parlo per me, per quello che ho deciso della mia vita, io ho deciso di restare qui e creare nel mio territorio ciò che mi potesse dare da vivere e inseguire e poi realizzare i miei sogni. Se si vuole andare via che non sia una fuga, cioè che non sia un'alternativa migliore, se si vuole andare via si deve andare via appunto, ma non perché deve essere una fuga, perché qui non c'è nulla, tra l'altro non è vero, esatto. Ovviamente questo non deve essere giustamente un compito lasciato ai giovani, soltanto ai giovani, cioè ognuno deve fare la sua parte, i giovani devono metterci loro e le istituzioni devono fare lo stesso, cioè deve essere un lavoro fatto proprio in sinergia, cioè gli ingranaggi devono girare insieme perché questa macchina del sud possa muoversi, perché è come avere una Ferrari in garage e non poterla uscire per delle piccolezze, quando invece si possono risolvere il tutto può partire alla grande, però credo che la situazione stia cambiando, cioè si avverte questo, il sud sta rinascendo, sta crescendo, prima si era creato proprio un netto di vario tra il nord e il sud, però adesso le cose stanno cambiando, cioè la situazione si sta equilibrando di nuovo, diciamo così, quindi se posso io essere un esempio anche da un punto di vista culturale, cioè che poi è quello che mi interessa alla fine, cioè essere un esempio da un punto di vista culturale, cercando di fare del mio meglio ovviamente. Allora la Blues Indelebile Band è una formazione di bravi ragazzi, questa è la prima cosa da dire, li conosciamo personalmente, sono dei bravissimi musicisti, ma anche delle brave persone davvero. Allora parlando di musica, vorrei un po' iniziare a chiudere questa intervista chiedendo a te Domenico, qual è il tuo mito dal punto di vista musicale? C'è tanto, io sono tassierista, quindi parto dalle basi, dai dors ad arrivare al jazz, quindi c'è tanto da ascoltare. Fortunatamente in questa band abbiamo, ripeto, una fortuna, perdonare la ridondanza, però è questa, perché il blues ti permette di dare ogni volta che suoni un'interpretazione personale diversa, mantenendo chiaramente le strutture, quelle che sono i brani. Però il lavoro che facciamo noi, qui sul territorio ci sono molte band blues, o perlomeno alcune ce ne sono, senza chiaramente fare posizionamenti, chi è più bravo, chi è meno bravo, non sono cose inutili queste, lasciano il tempo che trovano. Noi abbiamo la fortuna di riuscire a lavorare, penso forse che siamo gli unici come band, a poter mettere, riarrangiare totalmente anche brani classici e quindi dare già un 50% del nostro cuore e quando usciranno gli inediti avrete il 100%. Andranno sicuramente bene, saremo il vostro portafortuna Federica. Allora, il tuo mito invece qual è dal punto di vista musicale? Beh, anche per me, insomma, ce n'è tanto. Allora, io lo specifico sempre, lo dico sempre, io amo la musica italiana. Se proprio devo parlare di una cantante, nel caso mio specifico, per me sarà banale, ma c'è la grande mina. Sarà anche banale. Sarà anche banale. Però, dal punto di vista invece blues, io amo molto Etta James. Ed è quella, come posso dire? Non mi viene il termine. Alla quale mi ispiro. Ok. Va benissimo, resta qui accanto a me che dobbiamo fare il gran finale. Per quanto riguarda invece Domenico, il tuo mito, so benissimo invece, non voglio andare nell'ambito musicale, però so benissimo che i tuoi miti, ed è giusto che sia così, sono un po' gli emblemi del coraggio, della legalità e della giustizia. Sono ricorrenti, ho sbirciato un po' anche nel tuo profilo, in tutto ciò che fai, le loro immagini sono sempre ricorrenti. Chi sono? Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sì, assolutamente, assolutamente. Sì, 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 sì. Sì, sono degli esempi, ma diciamo che alla fine la musica è cultura, quindi tutto può essere collegato. Quindi se insegui un obiettivo, che sia musicale o che sia di un'altra natura, puoi sempre prendere come riferimento delle persone come loro. Quindi io poi ho vissuto quella, cioè li abbiamo vissuti tutti quegli anni, il 92, quelle stragi, ho avuto modo di visitare, e ci vado spesso a visitare, quei posti dove sono stati compiuti questi delitti efferati. e non lo so, sento come... gli sento troppo dentro, insomma. Da un punto di vista musicale, me la faccio io la domanda e ti rispondo perché mi piace rispondere a questa domanda, perché voglio collegarmi alla stessa risposta, alla risposta che ho dato prima. Chi è il tuo mito da un punto di vista musicale? È Vincenzo Pastano, insieme ad Antonello D'Urso, perché sono due grottagliesi, grottagliesi, quindi senza andare... Due grandi umili. Sì, ecco, questa è la prima cosa, un po' che lega poi anche gli altri personaggi, no? Quindi loro sono l'esempio che Grottaglie sforna dei talenti, no? Quindi e poi dei ragazzi, sì, umilissimi. Per me, da un punto di vista musicale, sono i miei, diciamo, fari, no? I miei, come si dice, i miei punti di riferimento, insomma. Io da loro ho imparato tanto e continuo a imparare. Poi, a parte di chitarristi miti, Eric Clapton, Gilmour, questi che un po' si sente un po' anche, no? Quando una persona suona si sente un po' ciò che ha studiato, che ha la base, insomma, no? Però i miei riferimenti, sia umani e sia da un punto di vista umano che da un punto di vista musicale, sono loro due, perché dai, averli così vicino... E ragazzi, siamo tutti amici, quindi ci conosciamo benissimo. Le prossime puntate di Zona Franca vogliamo anche voi. Facciamo anche questo appello e li salutiamo. Assolutamente. Un saluto a due grandi amici e due grandi, grandissime persone, veramente, da un punto di vista umano, eccellenti. E due grandissimi chitarristi, anche. Allora, chiudiamo un attimo su questo primo piano. Facciamo un primo piano sugli occhi della mia amica Federica. Vabbè, Gabriele, è troppo... E vorrei chiederti, Federica, se possiamo dare lo scoop che tu sai in diretta. Cioè, che scoop? È più di carattere privato. Ah, ok. Allora, per tutti coloro che ci seguono, voglio essere invadente questa sera, questi due ragazzi a breve si sposeranno. Quindi Domenico e Federica convoleranno a giuste nozze. No, no. Ma volevo dire... No, bugia. Mettiamolo vicino alla futura moglie. Grazie, grazie. Ok, mi sento un'intrusa, prego. No, con la prima... Va bene. Grazie, non c'è stata invadente. È una cosa bella che comunque sia... Sì, ma infatti l'abbiamo anche condiviso con tutti, no? Perché comunque è una cosa bella. Cioè, cosa c'è di... C'è un mio. Quindi la musica ci ha uniti anche, quindi ci ha fatto anche ritrovare, riscoprire. Sì, sì, naturalmente, perché comunque noi abbiamo iniziato a suonare insieme che ancora non eravamo fidanzati, quindi poi è nato tutto un po'... Cioè, l'hai fatta, l'hai conquistata. Certo. Bisogna darti merito di questo, perché è davvero molto bella. Grazie, amica. Allora, magari vogliamo chiudere con... Facendo un po' sentire le note della vostra colonna d'amore, la vostra colonna sonora d'amore, la vostra canzone. Ce la canti un attimo a cappella? Accennala tu, accennala tu, senza strumenti, tutto live. Allora, faccio la parte finale. All really cares me. Io mi emoziono sempre. Grazie. L'amore vince sempre. Qui, qui, va bene. Vorrei chiudere, se mi permettete, con un appello nei confronti dei giovani. Oggi c'è tanta... come dire... Non lo so se si può chiamare dispersione. Non lo so. I giovani vedo un sacco di problematiche legate alla mancanza di cultura. Per mancanza di cultura intendo anche una cultura mal gestita. I tablet, i telefonini, i videogames. c'è troppe ore passate e sprecate inutilmente e quindi gestite male. Quindi io farei un appello ai giovani, ai ragazzini di prendere la via o della musica o dello sport. Cioè gestite meglio le vostre ore. Studiate soprattutto qualsiasi cosa, di qualsiasi campo. Ok, quindi... Perché la musica aiuta. La musica aiuta. Non solo, forse non solo la musica, anche no? Assolutamente. Qualsiasi cosa gestita bene, anche per carità, un tablet, un telefonino, se usati in maniera coscienziosa e quindi in maniera, diciamo, positiva, con un tempo limitato. Quindi dedicate più ore alla cultura, allo studio, quindi studiate la musica, studiate quello che vi piace anche studiare, però non sprecate questo, non sprecate il vostro tempo. Confrontatevi sempre con gli altri, con i vostri amici e insomma, uscite un po' all'aria aperta. Sì, perché noi vogliamo anche essere, per legarmi di nuovo a quello che dicevamo prima, vogliamo essere anche un esempio in questo senso, no? La musica ti fa conoscere nuove persone, ti porta, insomma, anche nel nostro caso, conoscerci e insomma a stare insieme come è successo a noi. È una cosa bellissima. Va bene. Ragazzi, noi vi dobbiamo lasciare. Si conclude così la nostra puntata di Zona Franca. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità e salutiamo ancora i personaggi mancanti della band. Michele Marzulli, Lino Barbaro. E seguiteci su tutte le piattaforme, siamo dappertutto, tecnologici. Blues Indelebile Band, seguiteci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.